Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi al nostro canale YouTube da questa parte, lasciare un bel like e scaricare l'app di numero 10. Qui sotto c'è il link, ovviamente gratuita, in palio, la maglia di MENYAN, autografata, mi raccomando, fate numerosi e seguite anche il profilo di Instagram di MB Maglie, qui sotto c'è il link. Allora ragazzi, parliamo proprio di MENYAN, ma non solo in iscrizione, clamorosa, 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 che arriva da un paio di colleghi della stampa inglese, devo dire anche accreditati, secondo cui il PSG vuole provare a realizzare un clamoroso scambio con il Milan, ma sarebbe qualcosa non di clamoroso, di più. Cioè, il PSG pensa, inizia a manovrare, inizia a lavorare su uno scambio Donnarumma di ritorno al Milan, MENYAN al PSG, con ovviamente conguaglio nei confronti del Milan. Il PSG, secondo i colleghi, devo dire che l'avevo già letto e scritto una volta, cioè l'avevo già letto una volta, l'ho rivisto un'altra volta, ho visto che ne hanno parlato ancora da altre parti. E secondo me è anche credibile, cioè che il PSG voglia a MENYAN, secondo me è più che credibile. Luis Enrique ha detto che vuole un portiere bravo con i piedi, e MENYAN è forse il top con i piedi. Che non siano contenti di Donnarumma è evidente, che provino a piazzarlo altrettanto. Mi risulta sinceramente difficile pensare che il Milan possa accettare. E' vero che poi se va via MENYAN hai bisogno di un portiere, ma mi sembra che a livello ambientale il rapporto con Donnarumma sia più che compromesso. Vediamo, dipendo molto anche dal valore economico, sinceramente credo che ogni tifoso del Milan questo scambio lo eviterebbe, preferirebbe semmai tanti tanti soldi per MENYAN, con poi la possibilità di andare a prendere un sostituto che non è Donnarumma. Questo è il piano clamoroso del PSG, secondo tanti colleghi, ripeto, esperti di mercato. Vediamo cosa succede, sarebbe qualcosa di unico. Io non credo che il Milan possa accettare o debba accettare. Voglio leggere però il vostro commento qui sotto, lo fareste oppure no? Se sia che cifre, io dico no. Voglio leggere i vostri commenti. Commentate, iscrivetevi qui numerosissimi, ripeto, se succede qualcosa di inimmaginabile. Un saluto!